Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. Apriamo questa edizione con la cronaca. Arrestati i responsabili dell'omicidio di Maurizio Cerrato, ucciso lunedì sera a Torre Annunziata. Anche il sindaco Ascione ha fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia. Passiamo all'emergenza Covid-19, in calo l'indice RT che si attesta sullo 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. Intanto si attendono novità sul colore delle regioni. Da lunedì la campagna potrebbe diventare gialla. Riaperta dopo più di un mese la fermata della circunvesuviana in via Sant'Antonio, il sindaco Giovanni Palumba si dice soddisfatto per l'enorme lavoro svolto dall'ente. Continuare la battaglia Covid-19 ma guardando anche oltre. Firmata oggi l'intesa operativa tra ASL Napoli 3 Sud e il Cotugno di Napoli. Quest'unione nasce dall'esigenza di aiutare i pazienti, seppur negativizzati, a ricevere cure mediche e sorveglianza clinica. Infine spazio allo sport con la Turris, gli uomini di Caneo cercano i tre punti domenica contro il Bari per la salvezza matematica in Serie C. Questo è d'altro, guardiamo i servizi. Uno l'ha colpito al petto, mentre gli altri lo tenevano fermo. Così è morto Maurizio Cerrato, il 61enne custode del Parco archeologico di Pompei, assassinato lunedì sera a Torre Annunziata, al culmine di una spedizione punitiva, dopo una lite per motivi di parcheggio. Ad accertarlo, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, sono stati i carabinieri della locale Compagnia. L'accusa per i quattro è di omicidio volontario in concorso, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Sono finiti in manette Giorgio Scaramella, 51 anni, Domenico Scaramella, 51 anni, Antonio Venditto, 26 anni, Antonio Cirillo, 33 anni. Indagini serrate hanno portato agli arresti, rese più difficili dall'assenza di immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità cittadina, rivolgo il mio ringraziamento alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e alle donne e agli uomini dell'arma. Il commento del sindaco Vincenzo Ascione, per il meticoloso e incessante lavoro svolto durante le indagini, grazie al quale è stato possibile assicurare alla giustizia, in tempi brevissimi, i responsabili dell'efferato omicidio. Rinnovo la mia assoluta vicinanza ai familiari. Sono conscio del fatto che nessun arresto condanna, che mi auguro sia esemplare, potrà mai alleviare l'indicibile sofferenza causata dall'assurda morte del loro amatissimo Maurizio. L'umana pietà non può bastare e non rende giustizia ad una vittima innocente. Le parole dell'arcivescovo Domenico Battaglia. La speranza però non può venire meno. La speranza nelle istituzioni, che sono chiamate a fare la loro parte, vincendo la tentazione del facile consenso. La speranza nella società civile, perché non ceda a forme di arrendevolezza o, peggio ancora, di atteggiamenti omertosi. Il brutale omicidio ha scosso la comunità di Torre Anunziata, le associazioni e le parrocchie, si sono mobilitate per un momento di riflessione e di ricordo, con l'intento di dare un segno concreto di presenza e di riaffermazione dei principi di legalità. Alle 17 di domani, sabato 24 aprile, presso la piazzetta di Via 4 Novembre, ci sarà l'accensione del cielo della giustizia, con la deposizione della ginestra, simbolo di resistenza e di rinascita. Fino alle ore 21 sarà possibile recarsi sul posto e soffermarsi per un momento di riflessione, deponendo un fiore e firmando un libro di presenza. Ci sto, perché non ci sto. Subire passivamente ci rende tutti più deboli, meno liberi. Esercitiamo il nostro diritto alla libertà, condannando, tutti insieme, il senso del messaggio del mondo dell'associazionismo e della Chiesa, pratiche ed atteggiamenti illegali che opprimono e condizionano la nostra comunità. Non saremo complici, col silenzio la passività. Vogliamo la nostra dignità, difendendo la legalità e la giustizia. L'indice RT nazionale di contagio del coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana e quanto emerge dal consueto monitoraggio settimanale tra il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità sull'andamento dell'epidemia. Questa settimana si osserva ancora una levissima diminuzione dell'incidenza dei casi di Covid-19, pari a 157,4 per 100.000 abitanti, contro 160,5 per 100.000 abitanti della settimana precedente. Il dato puntuale a giovedì, che è quello preso a riferimento per le decisioni, sarebbe di 159. Complessivamente, l'incidenza resta elevata e lontana da livelli 50 per 100.000 che permetterebbero il completo ripristino del tracciamento dei casi. Potrebbero essere 14 le regioni e due province autonome ad andare in zona gialla, come previsto dal decreto di aperture a partire dal 26 aprile. Tra le regioni che sperano di tornare in zona gialla c'è anche la Campania, che si trova attualmente in zona arancione. Essere gialli da lunedì significherebbe la riapertura di molte attività, a partire dai bar e dai ristoranti, con servizio tavola, pranzo e cena, teatri, cinema, musei e spot all'aperto. Resta invariato invece il coprifuoco alle ore 22, fino alla fine di luglio, decisione che potrà essere modificata se i dati dovessero migliorare. Il rosso, salvo diverse disposizioni della cabina di regia, che analizzerà i dati del monitoraggio, rimarrà solo la Sardegna. In arancione dovrebbero invece passare Puglia, Valle d'Aosta e forse anche la Sicilia. Diventerebbero gialle invece, oltre alla Campania, anche Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Frulli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, Toscana, Umbria e Veneto. Verranno monitorati grazie all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Firmato questa mattina a Torre del Greco, nella sala di Guevara del Plesso Bottazzi, il protocollo d'intesa tra l'Asl Napoli 3 Sud e l'ospedale Cutugno per la gestione dei pazienti post-Covid. E' questo l'obiettivo del progetto Telemaco. Ai microfoni di TV City, il direttore generale dell'azienda sanitaria Gennaro Sosto e Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda dei Colli per l'ospedale Cutugno, illustrano nei dettagli come si attiverà il progetto, facendo il punto anche sulla campagna vaccinale in corso e sulla situazione delle strutture ospedaliere. Non manca l'appello a non abbassare la guardia. L'idea è quella di riuscire a monitorare una serie di pazienti che verranno individuati secondo un'apposita scrematura da parte dei nostri tecnici, da parte dei nostri specialisti e individuare quelle categorie di pazienti che potrebbero avere nella fase post-Covid delle ripercussioni. Noi da nostra parte mettiamo a disposizione i pazienti che sono stati individuati, che hanno acquisito il Covid e che potrebbero avere delle ripercussioni. Li monitoriamo con delle tecnologie di ultima generazione e l'aiuto, oltre che ai nostri medici, ce lo darà il Cotugno nell'esaminare e nel diagnosticare questa tipologia di effetti collaterali, effetti a lungo termine, capirne la razio e cercare di gestirli nel manior modo possibile. Cosa lascia il Covid? Gli effetti sono di vario genere. In alcuni casi è stato rilevato dall'evidenza che stiamo avendo gli effetti di stanchezza, di effetti di indolenzimento muscolare, effetti emicranie, una serie di patologie, anche di difficoltà respiratorie, che si manifestano per più settimane e in alcuni casi per più mesi. Queste ore si registra un calo dei contagi, ma a che punto siamo con la campagna vaccinale? Contagi, per fortuna abbiamo un calo, non abbiamo ancora una fase di stabilità, quindi dobbiamo fare massima attenzione in questa fase, proprio per evitare che ci siano delle recrudescenze, che si ripresentino dei contagi. Avremo delle settimane ancora non facili, quindi massima attenzione tutta la popolazione, chiediamo davvero di resistere ancora e di non inficiare il grande sforzo che abbiamo fatto negli ultimi mesi. Per quanto riguarda la nostra ASLO, ormai siamo sulla soglia delle 6.500 vaccinazioni al giorno. L'ambizione è arrivare già nella prima decada, i 15 giorni di maggio, intorno ai 7.500, anche 8.000. Abbiamo già oltre 20, 23, 25 centri vaccinali in apertura, contiamo di arrivare a 30 sedi vaccinali nella prima quindicina di maggio. Ci arrivano tuttavia segnalazioni di over 80, anche qui nella città di Torre del Greco, che ancora devono avere la prima dose, come mai? Le convocazioni per gli over 80 aderenti, da quanto risultano diagnostici sulle piattaforme, sono praticamente 98-99%, quindi siamo praticamente alla coda. Il percorso dei non deambulanti, che sono i domiciliari, lo dicevamo già con altri suoi colleghi, in altre battute, è più complesso oggettivamente. Andare a casa con un team costituito da un medico, un infermiere, un operatore sociosanitario, consente di fare 10, 11, quando siamo bravissimi, 20 inoculazioni. Siamo alla coda anche dei non deambulanti, abbiamo già fatto anche oltre il 60-65% dei non deambulanti. Contiamo questa ultima fetta di persone con un rafforzamento ulteriore, che ci vedrà con 30 squadre presenti sul territorio, di completarlo entro la fine del mese, massimo i primi del mese di maggio. Una sinergia bellissima, dove noi come ospedale Cotugno e quindi come azienda De Colli mettiamo a disposizione della Napoli 3 il nostro supporto di esperienza vissuta all'interno dell'ospedale Cotugno, che come ben sapete è l'ospedale delle malattie infettive della regione Campania. Il nostro è un contributo di tipo scientifico, di tipo diciamo professionale, ai colleghi che qui chiaramente si curano i pazienti anche presso il loro domicilio. Quindi noi siamo a disposizione per questo e abbiamo accolto con molto molto piacere la possibilità di dare questa nostra testimonianza e questo nostro contributo. L'ospedale Cotugno, struttura di eccellenza nella gestione di questa emergenza sanitaria, in questo momento qual è la situazione ricoveri e terapia intensiva? Purtroppo siamo pieni, purtroppo siamo pieni, riusciamo a reggere la domanda perché chiaramente attiviamo un meccanismo di turnover molto molto accentuato, nel senso che chiaramente dimettiamo i pazienti appena dimissibili, rendendo disponibili i posti letto, adottiamo anche un meccanismo a fisarmonica, lì dove c'è necessità aumentiamo i posti letto, però posso dire anche che noi in questo momento mettiamo a disposizione della regione Campania, solamente come azienda dei Colli, oltre 300 posti letto. In questo momento abbiamo ancora una criticità in atto che dobbiamo assolutamente monitorare, quindi pensiamo al dopo, ma pensiamo principalmente all'oggi, mantenendo alta la guardia. Sarà ripristinata dal prossimo lunedì 26 aprile la fermata della Circo Vesuviana di Sant'Antonio, che era ormai firma da più di un mese e mezzo, e quanto comunicato al sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba dalla dirigenza EAB, a seguito di diverse sollecitazioni da parte del primo cittadino per la riapertura di una delle stazioni più nevralgiche dell'intera città, in considerazione del popoloso quartiere di riferimento. Così, da lunedì, battenti aperti e ripresa dell'esercizio ferroviario, per quanti lavoratori, viaggiatori e studenti si sposteranno dal territorio comunale. La riconsegna della stazione di Sant'Antonio all'utenza della comunità torrese giunge al termine di lavori di riqualificazione e recupero della struttura, così come concordato con l'amministrazione comunale nel corso della riunione convocata dal sindaco lo scorso 9 marzo. Siamo riusciti a rispettare, le parole del primo cittadino, la tabella di marcia prefissata e concordata con i dirigenti EAB, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto. La riapertura, il prossimo lunedì, della centralissima stazione di Sant'Antonio, coincide perfettamente anche con la piena ripresa delle attività scolastiche in presenza e agevolerà lo spostamento di tanti studenti. Col buon senso di tutti siamo riusciti a restituire l'efficienza di un servizio alla nostra comunità, conclude il primo cittadino. Matchboard per la Tourist in l'imminente incontro interno contro il Bari. Dopo aver usufruito del bonus Covid concesso dalla Lega nell'ultimo turno di campionato, che vedeva la squadra impegnata contro la Cavese, rinviato per l'eveggenza che ha colpito il gruppo squadra, i Coralini hanno ora la possibilità di centrare matematicamente la salvezza con due giornate di anticipo, se batteranno la squadra pugliese nell'incontro in programma a Liguri domenica alle 17.30. Dopo i risultati di domenica scorso, la Tourist è ora in zona play-out con la Vibonese che ha momentaneamente aggaggiato i Coralini, ma i 16 punti di vantaggio sulla Cavese sono un margine ampiamente rassicurante, visto che da regolamento se ci sono almeno 9 punti tra le squadre coinvolte negli spareggi di retrocessione, mancano 3 partiti alla fine del campionato, questi non saranno disputati e sarà salvezza. Anche un eventuale aggancio della Paganese, ora distante 5 punti, ma con una partita in più, sarebbe scongiurato. Gli uomini di Caneo hanno quindi il destino nelle proprie mani e raggiungere la salvezza in anticipo permetterà alla società di iniziare a pensare alla prossima stagione con più serenità e con l'esperienza acquisita in questo primo anno tra i professionisti dopo quasi 20 anni di assenza. La partita contro il Bari sarà diretta alla vigile di Cosenza, assistenti Buonocore di Marsala e Testi di Livorno, quarto uomo Moriconi della sezione Roma 2. Grazie per la cortese attenzione e per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti!